Vai my friend, cosa fai? Ma come è? C'è un cano con streaming Non c'è mai un cano con streaming La gente viene qua Dice io ho arrivato meccano Poi io dico ma chi cazzo sei? Mi dicono un nickname ma chi cazzo sei? Perchè nessuno scrive mai In questo streaming Ma quanti killing Ooooooh Ooooooh Bidocamera non prende l'audio Molto bene, direi che possiamo cominciare la vostra fantastica partita Già già sappiamo il loro packing Quindi noi ci possiamo far vedere in lane Già non parte bot Ovviamente sono anche incazzata Potrebbe essere Atrox qua Onestamente è una cosa che Un scenario fisico Potremmo sbattare in Morello Adesso è aperto il streaming Perchè E' un problema E' un problema Ecco Vaffanculo Ecco che cazzo Cosa fare? Cosa fare? Eh? Ecco 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 E' un problema Ecco first load questo che qua non parte male di più di più più male con il lume lì ma non mi sta riattando ah posso ho il suo flash e la cosa mi compiace perchè tanto il sorriere sarà in lume non penso che io non mando il flash ah posso io lo prendo però li ha preso vedi il gold primo cosa cosa se lo vorrei dare uno dai vari a questo ragazzo però non so dove è già andato non so non so non so non so non so però devi ricallare questo il mio friend devi ricallare non so o me o il farm non so 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 Chiara Ciao Chiara Fammi vedere cosa sappiamo fare in questo gioco MacRumble Andiamo Tutto bene Stiamo fermando malissimo 26 min Dobbiamo alzarci Sennò qua lo perdiamo Sei tornato grazie Grazie E' tanta Già lo vedo proprio da Da coppia Di destra Oh E' il gatto mare Però però aspetta Eh 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 Molto piace Nel momento io aspetterò qua Dei danni un po' più Di tonetti Eh Molto piace Oh Cazzo Ho perso Va bene Va bene Sei venuto Un minuto Abbiamo anche altro Che suonato Così Quindi Prendiamo un bel Di nuovo De gratis Ma no Ma è carretto Ma no Ah Ugo Lascia Teee Vabbè Sennò Sennò Mi ha preso i danni Guarda Guarda Questo Non lo prendi Questo Questo Quale Prendi Eh Questo Non lo prendi Tra Avvicinati Collone Eh non so quanti ti convenga a un certo punto per darmi eh Però sto sentendo puzza qua di gank eh Dammelo meno per favore Dammelo meno per favore Dammelo più Questa è abbastanza prevedibile Allora magari anche la vostra età Non è che sia tutto vecchio ma Cose Le chiamate Che web è questa casa Molto bella Dai non ti unitate Non ti miei Però io faccio meglio Oh vai ma Faffanculo A lui però sono molto a fiducia Però mi prendo la plate 0-2 TF Rinandarmi una mano Oh me ne vado Oh me ne vado My friend My friend Hi Go mid Go mid My friend Top is ok Oh my friend Dai cazzo Poi dai coglioni Sono ragga Troi malena E niente A perdere la top Non ho capito Guarda 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 Che bello Ignite No 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 Fuck Spaccio Sfaccio Bravi 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 Sfaccio 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 Qua Olla Pum Secco Secco cazzo secco secco cazzo secco stai qua ma è pozzato lo peggiammi, attraforo, una sconfitta una berraia in attacco si gioca al nurambol ma cazzo più rinchiato, andiamo a piangere ok che va bene tutto andiamoci tra il cazzo questo non è solo non si trova con dei eh 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 ora lo stai facendo amico mio amico mio cosa fai amico mio amico mio amico mio dove vai dove vai dove vai non è non è che non è Non c'è un giard Non c'è un giard Non c'è un giard Ah Sì Ho trovato Sì Sarebbe un problema, se almeno non tocco un carriato. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Ovviamente la parcheggeremo qua. E non sarà un parcheggio emotivo, sarà un parcheggio premeditato, studiato, sofferto. Io posso anche, ho sempre paura dei delaying anche, da parte di Jarvan, con due rispetto. Però ugualmente, non posso. Quante ore di gioco hai su Rumbled? Eeeh... Eh, sono un cazzo, io ho il prossimo, ho due milioni complessivi. Eh, sono tutti lini. Vabbè, manca tutti lini qua. Scusa, il mio cane. Ah, il mio cane. Dovrei andare a mida anche io, eh. Ammetto. Però ammetto anche, che prendere la prima torre, mi darebbe un montaggio veramente grande. Che loro non sarebbero poi più a contamere. Non passi, non passi. Non passi, non passi. Vai, il mio Digimon combatte. Beh, bella sopravvivenza. Ah. Ah. Sta fettendo la zilla già. Non passi, non passi... Morirà Quattro Vai Quattro No è andato proprio In base a piedi C'è Questa non è una vittoria Questa è una umiliazione Da qua mi è arrivato Qua non c'è il buono E io posso andare a prendere qui In realtà Un po' d'ambulantà del team E' una merda E poi ho usato delle risorse Che avrei voluto preservare Per cercare di portare Involuzione di un altro Solo per farlo trittare Cioè E' giusto il ragionamento Per carità Con Haka E' un delir No 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 Ma che cazzo è qui Sto aspettando Sto aspettando Spera che c'ha continuato E' un po' di Sto wave Sto wave Non c'è una roba Non c'è la wave Però Faccio anche male Non ci fare Non ci andare Cazzo Dove vai Dove vai E' un po' di No bro Non userò Perché se no L'avrei Caricato E' un po' di Cazzo Perché Però E' un po' di Tutto un bene E' un po' di 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 Andiamo! Ho la bellezza! No, domanda! Ta! sicuro vado a rabadonna perchè sennò sta partita qua si col cazzo pollicino pollicino te lo impievo su per il buco del culo tf come la mettiamo? ah dammi qua dammi qua dobbiamo fare scattare dobbiamo scattare le rinte scali quantomeno scala l'appo voglio essere delle scalle in fronte ugualmente noi aspettiamo di dare il meglio di noi quando vi ho herald mamma mia sei disgustoso però io ho fatto recall dai tf c'è il rispettivo top vai top porco giuda tf mamma mia che sega che sega io hanno argento 1 mi provo ecco il giugno verrà qualcuno legge una mano magari non faccia la vittoria però non è che l'abbè dottore Alan dottore dai dai dottore no di tutto ciò ho caidato ho chiesto le cose bite ha lato grazie a me non serve grazie chi è che ha perso il turret ottico e non so vuotare affumato molto obrigado morte for full mao è incazzato nero e su addos morte agli infamatori e va bene andremo qua invece livello 14 boom non è andato di là ma vai non che sia stata una grande idea non è stata una bella idea devo recallare questo 1060 2.320 gold due campi mi servono allora un capo sarà questo un capo proveremo a renderlo atros che darà magari a controllare qua anzi metto un numero qui crede anche essere un ultimino ooooh oh 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 Guarda la pia Morse No Non sembra che ci siano le arci Sto giocando un champion Che è veramente per l'easy In questa parte è per l'easy Non nel senso l'easy in inglese Proprio l'easy che non ci sono Sto giocando solo con l'after shot Quindi male Ma non sto neanche ragionando Cazzo quando fai una run che devi ragionare Io se fossi entrando Mi incazzerei e gli darei perfettamente ragione Allo stesso tempo Ho un disparato di giro a Rabadon Perché non ho danni e sto farmando all'opinale Quindi Back, Rabadon, non vengo neanche la forza E' vinta E' vinta cazzo E' vinta Dammi Rabadon Assolutamente 5164 gli AP La nostra ulti fa 2000 danni Che è addirittura Guardando la balla di HP di Vayne Il 125% Anzi 140% Per essere precisi Degli HP di Vayne Guardando invece Samira Siamo quasi lì Ci siamo Con la nostra ulti Ammazziamo chi vogliamo E lo portiamo con noi A T comunque Qui addirittura qualcuno pensa Che è Vayne Un po' fiume Un po' chitata Non abbiamo togliato Un po' chitata Qua Scusi Dai Scusi Dai Dai Cattamento diani Non troppo Ovviamente io A breve C'avrò Jarvan qua Credo No Tranquillene Ah, che vuoi che mi faccio occupare? Eeeh... Beh, io perchè sennò mi fanno loro... Mi faccio vedere i midi di una carriera? Nooo, quel cazzo, non mi faccio proprio più vedere i midi Qui qua... Adesso è anche vabbè, che va bene a casa Eeeh, lo fanno la volta questi signori Molto bene, Baron Asher signori, Baron, anzi Drake Drake, Drake perchè ne abbiamo tre Io ero già convinto, LCS, SS, SS, quagliate No, no, è un rambo, perchè sono... ha fatto bretti Ah, mio Dio Il giro, Bernie è morto E infatti è morto, perchè lei ha fermato Andiamo Andiamo Stai giocando contro il gioco Vabbè, assi Mi guarda lo... Vabbè Break Che mi è morto Ovviamente questo Reikard qua è molto per il gioco Noi siamo in portata per ultare Lo chiamerei anche qua secco adesso sono cazzo 1 e 1 a 2 avanti fuori dalle palle Baron ce l'hai lo smite ce l'hai dimmi che ce l'hai 40 secondi non ti preoccupare avanti iniziamo a ruotare le abilità accendere luce dove cazzo è per me ci manda sanno però in caso cosa faccio come quarto oggetto? se l'ha cazzo è l'ha cazzo eeeh ap 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 eeeh poi c'è pure i nostri attacchi fanno danni danni ora cazzo è ora cazzo è uscina eeeh eravamo a partire la champion select eeeh invece andremo a guardare qua leggermente tanto se qualcuno ci fa qualcosa muore quindi insomma Sì, non è la miglia di supportare, non è la miglia di supportare, non è la miglia di supportare. aiii pietre è morto a posto la cosa è che questa soraka sta vincendo cioè potrei lamentarmi di tante cose ma questa soraka sta vincendo amici miei qui, topo, metri il nostro si, questo di tutto, mi rapindo qua, un maledetto maledettoiii i minuti conviene mi possono conviene tante cose ma non prenda guarda, qua guarda, guarda, subira non ho una grande idea non ho una grande idea avanti andiamo vai jarvan avanti cerchiamo jarvan in base in base però lo possiamo ammazzare minimamente i 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